Cosa ne sai dei cambiamenti climatici? So che tutto ciò che i danni ormai che abbiamo fatto sono irrecuperabili, perciò è maggiormente importante stare attenti e cercare di non peggiorare ulteriormente la situazione. Suolto voi, quale genere musicale influisce di più sulla sensibilizzazione di questa tema? Non credo ci sia un genere che si avvicina di più alla sostenibilità ambientale, sicuramente ci stanno qualche genere legato alla natura più di altri come la reg, ma ogni artista a modo suo dovrebbe muoversi per la sostenibilità e per l'ambiente e ci sta intorno. Grazie 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 Grazie